Ciao a tutti, grazie a tutti per essere qui. Ecco, come ha detto giustamente Andrea, ora inizia la parte relativa al secondo tema principale di questa giornata, che è l'agricoltura, soprattutto un tema, mi immagino, molto sentito qua in provincia di Mantua. Allora, come diceva ovviamente, l'agricoltura, il programma regionale dell'agricoltura, come aveva detto prima Gianmarco, per quanto riguarda il programma energetico, mi metto più vicino, ovviamente seguirà le linee, a grandi linee, il programma nazionale, che è anch'esso in fase di preparazione. Tuttavia, l'agricoltura, diciamo così, è un tema anche molto regionale. Infatti, potete tranquillamente immaginare come l'agricoltura lombarda sia per forza di cose diverse dell'agricoltura nelle Marche, dell'agricoltura in Umbria, e quindi è un tema molto regionale. E quindi ci sono molte possibilità di intervento regionale in questo ambito. Tanto è vero che ogni regione ha il suo PSR, il suo programma di sviluppo rurale, che segue poi le indicazioni della PAC europea, eccetera, ma non parliamo di queste cose. Per quanto riguarda il tema agricoltura è molto importante e c'è possibilità di intervento a livello regionale, quindi a livello del PSR, il prossimo sarà nel 2020, infatti quello attuale scade nel 2020. Per cui le nostre proposte, diciamo così, di programma di intervento, per forza di cose, la maggior parte troveranno poi sfogo nel nuovo PSR, che la nuova amministrazione regionale, appunto, entro il 2020 dovrà preparare. Io, come aveva detto prima Andrea, ci sono due relazioni che saranno interessantissime, e quindi non voglio togliere tempo ai nostri relatori. Io voglio solo dare alcuni numeri, proprio per inquadrare, diciamo così, l'aspetto dell'agricoltura lombarda, proprio in numeri, com'è la situazione attuale. Primo numero, le imprese agricole. Le imprese agricole in Lombardia sono, nel 2016, poco meno di 47.000. Le imprese, e primo dato significativo, rispetto al 2010 c'è stato un calo del 10%, per cui, prima cosa fondamentale da inquadrare, è il forte calo di imprese agricole in regione Lombardia negli ultimi 5-6 anni. Per imprese agricole intendiamo tutte le attività connesse all'agricoltura, quindi l'allevamento di animali, la coltivazione del fondo, la servicoltura, quindi la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi, e l'attività connesse all'impresa agricola, cioè quelle attività che dipendono fortemente dall'attività, dalla produzione, dalla trasformazione di prodotti agricoli. Quindi, primo punto fondamentale, c'è un netto calo di imprese agricole in regione Lombardia. Secondo numero, secondo me interessante, la superficie agricola utilizzata, la SAU, è fondamentalmente il campo, il terreno che viene utilizzato per l'agricoltura. Le aziende che hanno una SAU, quindi una superficie, un terreno maggiore di 20 ettari, in regione Lombardia, sono 11.550 e l'estensione media di terreno per ogni azienda agricola lombarda è di 22,81 ettari, è l'estensione media di terreno. Questa estensione media è esattamente il doppio dell'estensione media delle aziende agricole italiane. Quindi, altro punto fondamentale è che le imprese e le aziende agricole lombarde hanno un'estensione in media doppia rispetto alla media nazionale, quindi sono molto più estese rispetto alla media nazionale. Questo è un altro punto importante. Altro punto, secondo me, importante da cui partire, fa sempre riferimento alla superficie agricola utilizzata, per capire bene. Questa superficie agricola utilizzata in regione Lombardia è quasi un milione di ettari. Di questo milione di ettari, il 70% è utilizzata a seminativi. Ovviamente questo lo possiamo tranquillamente vedere nella realtà. Questi sono tutti i dati che sono facilmente recuperabili dai siti di regione Lombardia, oppure dalle presentazioni che vengono fatte dai dirigenti. Quindi il 70% di tutti i terreni agricoli lombardi sono utilizzati a seminativi. E più o meno il 22-23% sono utilizzati a prati permanenti e a pascoli. Quindi la porzione principale sono i seminativi. I seminativi, e noi sappiamo benissimo quali sono le colture principalmente prodotte in regione Lombardia, facendo punto riferimento alla superficie coltivata, ad esempio a cereali, che sono i prodotti principali. In Lombardia sono 363.000 ettari, gli ettari coltivati a cereali. Di questi, il principale è il mais, poi abbiamo il riso, soprattutto in alcune zone della Lombardia, e a terminare il frumento. Quindi questo, diciamo così, dal punto di vista delle coltivazioni, del terreno, questo è l'inquadramento generale. Abbiamo meno imprese agricole, calo di imprese agricole, imprese agricole più estese di dimensione, di territorio, rispetto a quelle nazionali, e ovviamente la coltura è preponderante, la superficie agricola utilizzata è preponderante, quella per i seminativi. Passiamo agli allevamenti, che è l'altra, diciamo così, attività fondamentale qua in regione Lombardia. E tra questi, soprattutto, gli allevamenti bovini e gli allevamenti suini, che sono la parte fondamentale. Nel 2016, sempre questi sono tutti, ripeto, dati di regione Lombardia, ci sono quasi 15.000 allevamenti bovini in tutta la regione. Altro dato interessante, sono in calo rispetto al 2015 e rispetto agli anni precedenti. Quindi, come abbiamo un calo di imprese agricole, abbiamo anche un calo di allevamenti bovini. Ma il numero di vacche e di bovini è in aumento. Nella somma di tutti i bovini presenti in regione Lombardia, il loro numero è in aumento, a fronte di un calo degli allevamenti. Questo cosa comporta? Vuol dire che gli allevamenti bovini in Italia sono di meno, ma di estensione maggiore. Quindi la tendenza dell'agricoltura in generale a Lombarda è quella di avere un calo di imprese, ma un aumento della loro estensione, sempre diciamo così, sempre meno piccoli agricoltori che si sta lentamente trasformando in grandi imprese, che vanno ad assorbire quindi quelle piccole. Infatti, giusto per anche qui vedere bene un dato, la media di capi di bovini per allevamento in regione Lombardia sono 133, nel resto dell'Italia sono 50. Quindi anche qui vediamo come la media regionale sia molto più alta rispetto alla media nazionale che coincide col dato della superficie, che vi avevo detto prima, agricola. Gli allevamenti suini, anche questi, sono quasi il 50% di quelli nazionali, sono presenti in regione Lombardia e anche in questo caso abbiamo una diminuzione degli allevamenti e anche una diminuzione del numero di suini. Questo va parallelo invece. Quindi questo è per quanto riguarda gli allevamenti. Poi, giusto per finire, per non rubare tempo, volevo parlarvi un attimo dei numeri riguardanti l'irrigazione. Allora, noi in regione Lombardia abbiamo più volte posto il tema del risparmio idrico. Ok? Abbiamo visto prima, nel caso delle derivazioni idroelettriche, sappiamo dei problemi che creano questo, l'utilizzazione di acqua nel settore idroelettrico, soprattutto nelle province di Bergamo, Sondrio e Brescia, soprattutto nei torrenti alpini e prealpini. E il risparmio idrico tocca anche, e deve toccare fortemente, anche l'agricoltura, l'agricoltura lombarda. Anche perché regione Lombardia stessa dice, in un suo documento, che andremo incontro a conflitti idrici. Cioè, a conflitti fra l'acqua che deve essere utilizzata a monte, quindi con la produzione di energia elettrica, e l'acqua che dovrà essere utilizzata a valle per le attività agricole. E conflitti cosa vuol dire? Vuol dire che non avremo più acqua per soddisfare tutte e due. Quindi, o l'uno o l'altro, se andiamo avanti in questo senso. Per cui, è per questo che noi riteniamo fondamentale andare ad agire verso tutte quelle opere, tutte quelle azioni che portano ad un risparmio idrico, sia a livello di utilizzo per energia, sia soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura. Ecco, qual è, diciamo così, l'acqua maggiormente, utilizzata nell'irrigazione, è l'acqua che viene dai consorsi di irrigazione, o di bonifica, o dagli acquedotti, e in minor misura da acque superficiali, come laghi, fiumi, eccetera, al di fuori dell'azienda. Ma un numero, diciamo così, il numero importante che volevo farvi sottolineare, quali sono ovviamente le superfici irrigate, quali sono le culture che necessitano di più acqua, quali sono quelle che vengono maggiormente irrigate. E ovviamente la parte da padrone la fanno la cultura mais. Nella cultura mais sono irrigati 210.000 ettari di terreno. poi abbiamo altri cereali, poi abbiamo i prati permanenti. Quindi la parte preponderante di superficie agricola utilizzata per l'irrigazione è dovuta alle coltivazioni di mais. Ovviamente lo sappiamo, il mais è una cultura che necessita di tantissima acqua. I metodi di irrigazione sono diversi. Fondamentalmente sono tre i metodi che vengono utilizzati in regione Lombardia. Per i metodi di irrigazione e sommersione, che sono quelli utilizzati soprattutto per le colture del riso, quindi in zona di Pavia soprattutto, in cui il terreno viene sommerso. Avete tutti presenti le risa, il sommerso con l'acqua che resta lì. Il metodo a scorrimento, che invece è un metodo molto utilizzato in provincia di Brescia, ad esempio, in cui l'acqua viene fatta scorrere dai canali all'interno del campo. E poi c'è il metodo per aspersione, che invece è il metodo principalmente utilizzato qua in provincia di Mantua. Quindi questo è il quadro generale, proprio per fare un riassunto velocissimo della situazione agricola lombarda. Da questo dobbiamo partire, e anche da questo, e dagli spunti che adesso ci vengono da queste due relazioni, che andiamo sicuramente a sentire. Grazie.